L'iniziativa di formazione a distanza sul tema dell'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni con disabilità, è favorita dal Ministero dell'Istruzione. Attraverso il percorso formativo, a partire da alcuni nodi fondamentali come quelli della progettazione, delle metodologie, della valutazione e dell'inclusione, ci proponiamo di costruire insieme con i docenti delle esemplificazioni concrete e percorribili di azioni e di processi didattici che vadano incontro al cambiamento necessario. Sarà l'occasione per sperimentare insieme un modo di fare scuola più rispettoso delle esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni, più efficace in termini di impatto formativo e nello stesso tempo più motivante e appassionante per alunni e docenti.